Vladimir, come sono andate queste settimane di ritiro, come avete lavorato su Insila? Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo messo benzina nelle gambe e con tanto entusiasmo abbiamo confrontato tutti gli allenamenti che dovevamo fare, quindi posso dire che abbiamo lavorato benissimo e sono contento come lo abbiamo fatto. Sta per iniziare una stagione in Serie A, ci ricordiamo dal tuo arrivo due anni fa che l'obiettivo era quello di riportare il Crotone nella massima serie, ci sei riuscito insieme ai tuoi compagni, emozioni particolari in vista del prossimo esordio? Sì, certo, primo obiettivo da quando sono arrivato qua è stato sempre quello, poi come era campionato diverso ci avevamo avuto anche qualche difficoltà, primo anno, secondo anno abbiamo esotato tutte le nostre qualità e alla fine l'abbiamo conquistato promozione che per me è stata una cosa bellissima. Tu hai già disputato campionati di Serie A all'estero, sicuramente ci saranno delle differenze rispetto alla Serie A italiana? Sì, sicuramente, è uno dei migliori campionati al mondo, comunque rispetto a quelli che ho confrontato di qualità non si possono paragonare, però ho parlato con i compagni e sicuramente andiamo a confrontarlo tutte le partite con entusiasmo e con grande forza. Per chiudere, sei stato tra i migliori del campionato di Serie B per passaggi effettuati, non lo diciamo noi ma una statistica fatta proprio dalla Lega di B. Sì, posso dire che grazie al calcio che proponiamo, grazie ai compagni, è tutto merito di squadra, non mio personale, posso dire che ero felice ma lì è anche un punto dove devo confermarmi anche questo anno e cercherò di dare il mio meglio. Grazie per la visione! Grazie a tutti.